I carabinieri di Vico e il Gargano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Foggia su proposta della Procura nei confronti di tre persone accusate a vario titolo di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso nel periodo agosto 2021-dicembre 2021. L'indagine, denominata Tulipano Nero, è nata dopo che i militari avevano notato l'aggregarsi continuo in aree pubbliche con maggior afflusso di persone come piazza e villa comunale di soggetti noti nell'ambiente delinquenziale legato proprio alle sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini emergeva che tre avrebbero intrattenuto contatti con soggetti assuntori di stupefacenti nonché gravitanti nel settore dello spazio del consumo del vicino centro di Sanicandro Garganico. La successiva intercettazione dei soggetti indagati e il monitoraggio dei movimenti degli stessi avrebbe permesso di acquisire in ordine l'esistenza di sistematiche attività di cessione di cocaina. In particolare i carabinieri nel corso delle indagini avrebbero accertato ben 172 episodi di spaccio. Nell'ambito dell'operazione sono state sequestrate numerose dosi per un totale di 60 grammi di cocaina mentre altri circa 110 grammi del medesimo stupefacente è stato recuperato prima ancora di essere tagliato dagli stessi spacciatori.